ecco qua ci siamo ora invece sto usando 90 ingrandimenti a qua c'è il porto campo marì sì tu esempio insomma ci sarà scritto vabbè poi vedo il mondo cambia con il tuo esempio no con la tua opinione ecco qua quindi forse quello che vedete ora sarà tipo porto cesareo quello che vedete più in londananza e io comunque sto 10 metri la foschia purtroppo non manca mi dispiace però riesco ecco nuovando ingrandimenti potete constatare che che si vede un bel po di mare poi sembra bello calmo c'è un pochino di foschia peccato ma questa potrebbe essere gallipoli io vedo dei palazzoni eppure in salento le case sono per lo più piccole e basse ma ma qua vedo dei palazzoni quindi voi pensate un posto vicino a torre dell'uovo che poi qua praticamente c'è percorso rettilineo che a proseguire si arriva a san dietro in bevagnia e qui quindi stiamo una bella distanza potete osservare il salento adesso ho messo un ingrandimento potente a 90 per prima avevo messo la lente di barlow che raddoppia l'immagine e potete constatare che continua il salento ecco qua siamo in direzione sud est bene adesso vorrei fare un tentativo di girare in direzione della calabria ecco a voi può darsi che riesco a riprendere la calabria se no ritaglio questa parte ammazza metto a fuoco però il limite del mare non si vede è sì sto 10 metri alto però si doveva un po notare a quando pare forse l'aria un po torbida per vedere a calabria grazie 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 ammazza quando è più alto l'orizzonte rispetto a questi due ecco a voi qua siamo al comune di Maruggio vedete l'etica insomma sulla biodegradabilità dei rifiuti e infatti un po' ci sta qua sporcano lo stesso nonostante tutto sono dei incivili guardate guardate e sporcano tanto non serve un cavolo quando ha gente incivile incivile non c'è niente da fare e questo è qua è un punto particolarmente panoramico io vi saluto ciao ciao grazie a tutti 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 grazie a tutti